Peugeot 108, chi la preferisce berlina e chi decapotabile. Nelle versioni 108 top, basta alzare la mano per trovare il comando elettrico della capote e scoprire un ampio spazio di 80 cm di larghezza e 76 di lunghezza. Apertura regolabile e defrettore che si alza automaticamente per limitare le turbolenze d'aria e la rumorosità.